E come sempre, come sempre da Sanremo, Sanremo 20-24 all'interno del Festival Café, noi continuiamo con i nostri ospiti, intanto ringrazio Francesco Rasero che è nuovamente con noi, direttore del Carmagnolese, questa collaborazione carta stampata e radio che a Sanremo insomma è ancora più importante. Il Piemonte in Liguria, è bellissimo, è bellissimo, il Piemonte in Liguria e c'è già il nostro ospite che intanto mentre va a ritmo balla, io tengo il tempo, tieni il tempo, ce l'ho, ce l'hai, ce l'hai, perfetto, la vediamo se a tempo riesci a dire il tuo nome, noi siamo contenti di averti con noi. Ladies and gentlemen, from New York, Las Vegas, Dubai, Shanghai, tutte città stupende, ma io vengo da Foligno però, grazie, 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 anche meno, anche meno, grazie, solo uno, va bene, allora Andrea, intanto perché a Sanremo? Eh, me lo chiedo anch'io, mi hanno detto vieni che te facciamo cantare invece niente, pensa, da mago a cantante è un bel salto, sarebbe una magia proprio che canto io, quasi miracolo, quasi miracolo, ci stiamo studiando, stiamo studiando. Però potremmo vedere un attimino, magari metti mai che qui al Festival Caffè effettivamente ci fosse questa magia, magari il lancio, da oggi il lancio, Paris Andrea Cantante, the Miracle, tra l'altro alla mia età, quindi non mi sento tanto vecchia oggi, scusami. Non siamo tanto vecchi, non ti voglio togliere nulla, però se mia figlia ha fatto 12 anni, noi siamo vecchi, cioè purtroppo è andato, io vedo che cresce e faccio no. Esatto, cioè qui io ripercorro la mia infanzia perché io l'ho conosciuto sui primi video su Facebook del famosissimo Lonfo. Dilla a me, mamma mia che storia ragazzi. Ma se va ti racconto com'è nato così. Dai, volentieri, volentieri. Perché la gente non lo sa per bene. È successo questo, io stavo a Venezia a fare spettacoli per insieme a Ischidoso, lei all'arsenale, 12 giorni. Mi chiamano e fanno Andrea Guara, c'è uno slot a Piazza San Marco Martedì Grasso, sbrigate che ci servi. Vado a Piazza San Marco, non so quante persone erano, anche stranieri. Faccio i giochi, maxi schermi, bene, però chiaramente tutti stranieri. Dico, mo che faccio, recito il Lonfo e gli faccio, don't problem if you don't understand Italian toon, capisce nessuno, il safe language, è una lingua finta. Faccio sto Lonfo, mi vede Maddy in televisione. Io torno dopo 12 giorni e mi fa, appena apro la porta, mi fa, papà mi insegni il nostro, eh? Mi insegni il lampro, eh? Dico, mi ha sbattuto la testa, dico, parlava bene quando sono partito. E l'ho portata sul letto subito, infatti io stavo in tuta, senza cappellino, infatti la gente non associa, eh? No. Molti non associano, no, 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 e gli faccio fare il Lonfo. E il resto è storia, nel senso che io ho messo quel video per sbaglio, aperto nei social, mi hanno chiamato tutti per condividere, io non capivo, dico, ma scusate, dove senti la televisione che mi ha mandato, no? No, no, quello con tua figlia. E come l'hai visto? Due ore e 600 mila visualizzazioni, che all'epoca era il delirio, perché i primi video erano. Sì, poi era il Facebook ancora di una volta, che faceva un sacco di visualizzazioni. Poi quando io ti ho visto Italia's Got Talent, mi si è accesa la lampadina, ti ho riconosciuto subito al primo colpo, perché ovviamente una persona conoscerla sui social è una cosa, vederla poi in televisione effettivamente subito lì per lì, o riconosci dei sembiamenti, però ovviamente una persona negli anni cambia anche il volto, tutto quanto. Hai vinto Italia's Got Talent. No, secondo Italia's Got Talent, primo Tussi Chevales. Tussi Chevales, è vero, perdon, chiedo scusa, io purtroppo con la televisione la guardo, poi ogni tanto sbaglio anch'io. Io anch'io. Comunque, complimenti veramente, ragazzi. E tra l'altro mi ha detto adesso Andrea Rasero che tu sei stato un po' a scuola, Francesco, oggi non ne becco una in diretta, e mi ha detto che hai imparato dal Mago Sales, i primi nuovi anni. C'è stato Mago Sales. Che arriva direttamente dalle nostre zone, da Cherasco. Cherasco, ricordiamolo che c'è il Museo della Magia, che è fotonico. Lo so, lo so molto bene perché ci abita il mio miglior amico di fianco, quindi è molto molto bello. Però Andrea, insomma, dopo tutto questo raccontare, lui in realtà ha anche a che fare con la cinematografia, tu sei anche un regista cinematografico. No, no, questa è bellissima, anzi la dico in radio. Allora, Andrea Paris, se vuoi scrivere Andrea Paris, appare Andrea Paris quello, che non so io. Però potrebbe essere carino. Potrebbe essere, è quello di prima, come cantante. C'è la mia foto, ma ti spiego che succede, io ci rido questa cosa, ma una volta hanno scritto qualcosa, abbiamo corretto perché ci si intrecciano le schede, che lui, la sua compagna si chiama Barbara, che è la mia. Io lo conosco, lui lo chiamo, ha detto Andrea, senti allora dimmi una cosa, mi devi di qualcosa? Perché esci con Barbara, perché c'è scritto, compagna Barbara, porca miseria, chiamiamo sempre Wikipedia, che è difficilissimo, anzi, appello, c'è qualcuno che può aiutare per cambiare la scheda di Wikipedia, perché si è intrecciata con Andrea Paris, produttore cinematografico, che poi un po' mi somiglia, che c'è la barbetta, visto? Quindi stiamo incasinati. Noi che poi ce lo scambio di moglie anche dietro. Esatto, è questo che bisogna anche dire, no? Tirare fuori anche questione di te, basta, 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 io sono un altro. Scusate, per capire chi è, secondo me bisogna fare, recitare l'onfo. Il l'onfo. Uno fa il l'onfo. Chi lo fa giusto, uno che lo fa giusto è lui, e se lo sbaglia invece è l'altro. Esatto, 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 esatto. Assolutamente sì. Senti, ma prossimamente. Guarda, io da poco ho fatto Zelig, adesso sto facendo Made in Italy, sul Re 2. Sì. Ci sarò nella puntata speciale del 13 di febbraio, che sarà per San Valentino. Che bello. Quindi ci vediamo sul Re 2 e il 13, intanto non perdete anche le puntate di lunedì, che ci sono gli altri miei amici. Assolutamente sì, quindi prossima settimana, insomma, ti abbiamo visto qui oggi e ti ritroviamo in tv la prossima settimana. Esatto. Che bello, vedere dal vivo e poi in tv è bello. Sanremo, dai, noi siamo una radio, insomma, si parla di musica, l'hai seguito? Sì. Guarda, io dico la mia, lo so, ma io sono un popolare, però allora, a me gli artisti mi piacciono tutti, mi piace tutta la musica come espressione d'arte, perciò ognuno ha il suo stile e io non è che lo rispetto. Mi piace, tutti quanti, però io sarò che sono nostalgico, a me piace il Sanremo che è quando tu monti in macchina e ti fischietti le canzoni. Ok. E qui sono un po' che sono fischiettabili, c'è nel senso che non si può fare. Cioè, vedete, qualcuna... È un po' difficile. Non viene, non viene, non viene. Troppo, troppo. Quindi io sono notato della canzone, quella canzone che tu quando vai in macchina, tipo, Giorgia ha fatto un medley di cinque canzoni e quella è Sanremo. Eh sì. Poi anche gli altri, cioè qualcuno c'è che canta, ci mancherebbe, cioè Diodato per esempio fa un pazzire a me. Anche a me piace molto. Diodato per me dovrebbe vincere il festival, lo dico senza proprio mani basse, perché è bellissima la canzone. Anche io. Lui canta per Dic canta. E lui canta. E vabbè, questo è per dire che insomma io e Andrea siamo un pochettino vintage, quindi a noi piace il vecchio terreno. Io un po' meno vintage. Sì, fischiettarlo sia in macchina che sotto la doccia, insomma ovunque. Va bene. Ma tu non ci canti una canzone, davvero? Sì, allora vado, silenzio. Questa è la sua idea. Cioè, guarda, sono serio. Preparo questa. Sì, preparo questa da circa sei anni in realtà per fare un provino. Ok, va bene. Adesso vado. Datemi il via. Grazie. The sound of silence. L'ho citata da tanto tempo e ecco insomma io penso che... Dite che hai un po' carriera. Buon punto. Grazie. Signori, secondo me prossimo anno se partecipa con questa lo vince, saremo. Assolutamente sì. Questa si fischia bene. Senti? Visto? Siete benissimo. Senti Andrea, so che tu devi correre, insomma andare avanti e indietro. Un saluto agli amici di TRS Radio e agli amici del Carmagnolese. Allora, aspetta, la seconda parola è difficile. Intanto ti dico un saluto agli amici di TRS Radio e... TRS. TRS Radio, no, perché sono confusso sull'altra. Carmagnolese. 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 Facciamo così, signori e signori, la DAPS Radio e DAPS Migliorese. Perfetto. Che a noi andrà a fare. Andrino così, perfetto. Perfetto. Grazie Andrea, grazie. Grazie. Grazie a tutti.